Pronto, tieni che è il pilota, ok, quindi aspetta questa scia di macchina, il prossimo ciclo è il mio. Mi sento un po' Darty Mcduckner da qua, ce l'hai presente? No, vabbè ma sono comodissimi, potrei invitare a un rai party rai messire, ok, macchine di là, zero, zero, oh, alle 3, 2, A, tieni il pilota, Rocco. Ciao a tutti, sono Ulisse Hydra. e mercoledì scorso verso l'una di notte ho fatto un base jump dal T-Hotel di Cagliari è molto bello ma ci tenevo nel lasciare un mio messaggio personale ovvero di non improvvisare mosse del genere da nessuna struttura fissa o mobile che sia ma dietro tutto questo c'è preparazione, tempo, passione e comunque la mia vita e quindi sì mi sentivo di esternare questo mio messaggio prima che insomma questo video diventasse virale sul sistema di virtualità che già esiste e niente è tutto qua insomma mi auguro di aver lasciato un bel messaggio di poter scatenare qualche input su qualunque persona mi possa guardare o creare punti di ispirazione che lasciano un bel messaggio insomma niente di anarchico anziché distruttivo verso il sistema o storia del genere semplicemente quello che amo fare cerco di farlo al meglio che posso senza calpestare i piedi a nessuno e creando spazio tutto qua un bacione ciao